Sandro Becchetti, Corsa Tris Nazionale, numero 1911, 1911, doppio chilometro per indigeni di 3 e 4 anni, sono in 20 al via, Tris, Quartè e Quintè. Il mezzo meccanico lascia i concorrenti con il numero 3, Imotep BD, che all'interno prova a prendere il comando delle operazioni, Imotep in vantaggio. Problemi per il numero 7, la Mottafez che si rimette al volo, Imotep in vantaggio nei confronti di Let's Go di No. Poi ancora Lesson Mast, all'argo numero 16, Inspiring Kronos. A tabellone il 5, Isauramar, l'8, Idea Deymar e il 2, la Yotz. Cavalli che adesso transitano i 400 in 31 e 1, a largo c'è Ispirin Kronos che va a chiedere strada. Ah, Imotep BD all'esterno si impegna. Anche il numero 13, Looper Box SM. A tabellone anche il 4, Lendle ok. Per corsia esterna c'è anche il 14, Ivano Capar, la cui scia è presa dal 12, lecito di Azzurra. Sta passando a condurre Looper Box SM nei confronti di Ispirin Kronos. Poi Imotep BD. A tabellone l'11, Lesson Mast, cavalli che vengono davanti alle tribune, con Ivano Capar che va sul battistrada. Looper Box, 1'17 e mezzo, a metà corsa. Looper Box, Ivano Capar, poi in terza posizione in corda rimane il 16, Ispirin Kronos. All'argo lecito di Azzurra, la cui scia è presa dal numero 10, Let Me Coach LF. A contatto in corda Imotep BD. A precedere poi il numero 15, Irene Fargo, che a sua volta precede il 20, Idra Caff. Looper Box, in vantaggio, allunga Gian Paolo Minucci in sediolo al maschio da Supergill. In seconda posizione, all'esterno, prova a farsi luce l'escito di Azzurra, la cui scia è presa dal numero 10, Let Me Coach LF. Siamo a metà della piegata conclusiva. In vantaggio Looper Box SM nei confronti di Lescito di Azzurra. Poi si avvicina Let Me Coach LF. Gli altri che paiono battuti quando si entra in dirittura di arrivo. E' sempre Looper Box in vantaggio, l'escito di Azzurra che scatta su Looper Box con azione redditizia. L'escito di Azzurra sta passando su Looper Box all'esterno. Interviene Let Me Coach LF in vantaggio. Il numero 12, l'escito di Azzurra. L'escito di Azzurra che viene a vincere nei confronti di Looper Box. Poi il 10, il 19, dovrebbe essere quarto. 12, l'escito di Azzurra. 2,32 e mezzo, riferimento cronometrico. L'escito di Azzurra numero 12. Secondo, il 13, Looper Box. Terzo, il 10, Let Me Coach LF. L'escito di Azzurra, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. L'Emondra di Bjorn Lindblom ha vinto facilmente. Quindi l'attrice è 12, 13, 10. Quarto, dovrebbe essere non il 19 che era finito a tabellone e nemmeno...